Se riscontrate problemi riguardo a Windows Update quindi in questo caso è possibile fare degli aggiornamenti su Windows 11 manualmente senza usare Windows Update perché ogni tanto Windows Update può anche uscirvi degli errori come questo che l'installazione non è riuscita quindi esce sempre un errore tipo 0x870422 e altri errori. Quindi ti puoi anche arrangiare con aggiornamenti manuali grazie al catalogo di Windows Update ovviamente ogni volta che escono aggiornamenti da fare su Windows 11 come puoi vedere ho fatto un aggiornamento il 27 di settembre vado così a copiare questo codice di questo aggiornamento che ho fatto e lo vado a incollare qua sopra e faccio ricerca. Una volta fatto vado a individuare l'aggiornamento che devo fare come puoi vedere versione 23h2 su 64 quindi versione 23h2 su 64. Clicco su download l'aggiornamento se finisce come .msu lo puoi installare senza nessun problema e una volta installato puoi riavviare il sistema quindi scarichiamo l'aggiornamento. Una volta fatto questo l'aggiornamento ci clicchiamo sopra preparazione all'estralazione in corso ed eccolo qua aggiornamento per Windows è già installato nel computer. Quindi visto che tengo già installato questo aggiornamento non lo devo fare. Devi aspettare un paio di minuti una volta installato puoi riavviare il computer e hai aggiornato il tuo Windows 11 quindi hai fatto gli ultimi aggiornamenti sul tuo sistema operativo manualmente solo se in caso riscontri problemi su Windows Update. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!